allora vediamo andiamo al mio sito preferito scrivo l'indirizzo invio inaccessibile cosa ma ma non può essere ah ciao caspita stavo cercando di accedere al mio sito preferito e continuo a ricevere questo messaggio di errore è successo anche a te hai mai provato ad accedere a un sito da un bar da scuola da casa dal lavoro o persino da un parco pubblico e per qualche motivo continuo a ricevere un messaggio come questo forse ti sei chiesto ma succede solo a me sono normale oddio ho rotto internet magari hai chiamato un amico per vedere se ha avuto il tuo stesso guaio non riesco a capire perché ho questi problemi con la rete ma erdi web è qui per aiutarti con erdi web puoi segnalare quando hai un problema nell'accedere a un sito condividendo le informazioni con gli utenti internet sparsi in tutto il mondo erdi web ti mostra quale sito inaccessibile e per quanto tempo è stato inaccessibile con erdi web posso monitorare il cambiamento dell'accessibilità di un sito nel tempo scoprire quali sono i siti più difficili da raggiungere e in quali paesi è più difficile accedere a certe pagine posso fare tutto questo andando sul sito di erdi punto org oppure scaricando un comodo plugin per il mio browser e condividendo le mie segnalazioni su erdi mi aggiungo un intero gregge di utenti globali che tengono d'occhio quanto accessibile la rete in tutto il mondo erdi punto org il verdetto del gregge e quindi